La principessa Non rigare la tua pelle con le lame perché le tue ferite ti trattengono come catene imprigionata dentro al castello delle brame. Intanto la pioggia batte ancora forte e tu sulla tua torre sei salita ed hai chiuso le porte. Principessa non morire, hai ancora tanto da scoprire, basta solo saper aspettare perché la pioggia, lo sai, il mare fa calmare. Ogni temporale per natura è destinato a finire e quando non pioverà più tu potrai ripartire. E se questa pioggia dovesse essere perenne non preoccuparti, tu comunque potrai restare indenne. Tra poco il tuo castello cerca di lasciare e quelle catene vedi di allentare perché la tua nave è troppo bella per non salpare. Non avere paura principessa che il tuo cuore sa bene dove andare ma tu non lo spaventare, dagli la possibilità di remare. Grazie a tutti.